Sono 270 nuovi positivi in provincia, questo è il dato dell'aggiornamento dell'ASPE Nissena del 4 luglio relativo alle 24 ore precedenti. I pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 sono tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 93 pazienti di Gela, 82 di Caltanissetta, 26 di Niscemi, 19 di Butera, 17 di San Cataldo, 8 di Mussomeli, 6 di Riesi, 5 di Mazzarino, 5 di Serra di Falco, 5 di Vallelunga Pratameno, 3 di Delia, 1 di Sommatino e 1 di Villalba, 2 pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 1 di Niscemi e 1 di Gela, circa un centinaio i guariti dal Covid-19, e cioè 30 pazienti di Gela, 26 di Caltanissetta, 11 di San Cataldo, 7 di Mussomeli, 4 di Milena, 3 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Niscemi, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Serra di Falco, 2 di Bonpensiere, 1 di Delia, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro, 1 di Riesi, 1 di Sutera, 1 di Vallelunga Pratameno e 1 di Villalba. Secondo il bollettino consultabile del sito del Ministero della Salute, invece, l'aggiornamento del 4 luglio segnava un incremento rispetto al giorno precedente dei casi totali di 36.282 in tutta Italia, di cui 3.140 in Sicilia.